Non è il solito casino, mi raccomando, fate a piano. Charlie Cinelli come non l'avete mai visto, Charlie Cinelli che si racconta teatro venerdì al centro Lucia di Botticino Sera. Charlie che ripercorre più di un decennio di sperimentazioni e alchimie. Finalmente riesco a fare uno spettacolo teatrale, non è che io reciti o faccia, non voglio fare altro che cantare, però cercherò insieme a questo gruppo di amici musicisti molto soundistico di creare atmosfere adatte a cantare certe canzoni, a proporre certe canzoni che normalmente non posso fare negli ambienti, non so, la festa di piazza, il locale dove si vede la birra. Appuntamento alle 21 dunque per un progetto inedito. Il progetto è nuovo, le canzoni no, sono quelle che vanno dal 98 a oggi e comprendono 5 dischi folk, 5 progetti distinti che si concateneranno in modo musicale. Ok, adesso non dentro, dai.